Siamo tornati su Minecraft, come in un server? Penso che potete già capire. Un server è chiamato Minecraft. C'è la Skywall, c'è la Skyblock. Ah, quindi forse si devono sbloccare, non lo so. Vedo, taglimi la visuale oscillante. In off. Così prima ci facciamo un bel parkour. Io ce l'avevo giocato su sto server, infatti ho 16 coin. Così possiamo... Guarda che sono trovato anche queste persone. Ho cambiato anche la skin. Non è vero. In off. Grazie a tutti. 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 No, no. e... 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 ... 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